Benvenuti a questo incontro dedicato alla Previdenza. Sono Giuseppe Santoro, infineco mi occupo a livello formativo da diversi anni di fondi, pensioni e Previdenza in generale. Bene, vorrei iniziare questo nostro incontro chiedendoci perché oggi è fondamentale parlare di Previdenza. Di solito quando si parla di pensioni è immediato pensare al futuro. Oggi però vedremo come l'analisi del presente sia fondamentale per impostare al meglio il nostro futuro. Vedremo quanto sia importante decidere oggi il proprio futuro affinché si possa mantenere il tenore di vita desiderato anche una volta andati in pensione. Parliamo da questa semplice considerazione. Solitamente le persone si dividono in due gruppi. Da una parte quelle che non si preoccupano di pianificare il futuro perché lo percepiscono come troppo lontano e dall'altra quelle che invece pensano che non sia una necessità. Ecco, oggi vorrei far rientrare tutti in un terzo gruppo, cioè quello composto da persone consapevoli dei fenomeni in atto a livello globale ma soprattutto nazionale, poiché questi fenomeni stanno già portando a cambiamenti epocali che rivoluzionano il mondo e rivoluzioneranno in particolare la previdenza. Quindi oggi inizieremo con l'osservare attraverso i dati come sta cambiando il nostro mondo. Proseguiremo e conosceremo meglio il tema della previdenza complementare perché penso che siamo tutti d'accordo che fare affidamento solo sulla previdenza obbligatorio pubblico o la pensione Ips per intenderci sia poco lungimirante. E infine ci soffermeremo sulla soluzione che propone Fineco, cioè il fondo pensione Core Pension e soprattutto la sua semplice modalità di adesione. Prima di iniziare vi segnalo che come sempre potete fare domande tramite l'utilizzo della chat. Ma ora partiamo. Partiamo? Beh partiamo bene. Partiamo con un dato e partiamo con una bella notizia. L'aspettativa di vita si sta alzando anno dopo anno. Viviamo e vivremo tutti più a lungo il nostro paese in questo è maestro. Insieme tra l'altro in Europa alla Spagna siamo alla nozione con l'aspettativa di vita più alta. Se guardate questa curva il grafico ci dice che il trend è decisamente netto. Sicuramente le vicissitudini legate alla pandemia di ormai qualche anno fa ha un attimino frenato questa tendenza ma ormai stiamo riprendendo alla grande. Quindi i dati fino al 2020 parlavano di 82 anni di aspettativa di vita. Approfondiamo ora cosa succede nel mondo sempre in merito all'aspettativa di vita. Abbiamo alcuni dati del 2022 quindi post pandemia e ci posizionano addirittura con un dato più alto 83,5 anni di vita e siamo all'ottavo paese appunto con la più alta aspettativa di vita dopo Monaco, San Marino, Giappone insomma vedete le nazioni che ci precedono. Normalmente l'aspettativa di vita varia secondo il genere e altre caratteristiche socio demografiche come per esempio il livello di istruzione e modo particolare fra gli uomini rispetto alle donne. Le differenze sono meno pronunciate in Italia dove gli uomini con alti livelli di istruzione possono aspettarsi solo 4-5 anni di vita in più rispetto agli uomini con bassi livelli di istruzione. Mentre solitamente la differenza media è di 8 anni più nei paesi dell'Ocse. quindi c'è una certa anche omogeneità in questo dato. Proseguiamo. Adesso vi farò una domanda attraverso la nostra modalità di sondaggio. Lancio subito il sondaggio in modo tale che possiate già rispondere. Allora sono curioso, voglio vedere che percezione avete in merito di un'altra questione e l'altra questione è quella della salute pubblica. Allora vi chiedo secondo voi quale posizione ricopre a livello mondiale l'Italia per salute pubblica e per salute pubblica si intende ad esempio il livello di qualità dell'aria, dell'acqua oppure il livello di accesso alle strutture ospedaliere pubbliche. Potete già rispondere e le risposte da scegliere sono nei primi tre posti, intorno al decimo posto a metà classifica in fondo alla classifica. Vedo che state rispondendo, mancano ancora pochi secondi, sette, 6 secondi, dopodiché daremo il risultato. Eccoci qua. Ok, allora, perfetto. E vediamo un po' qual è il risultato che viene fuori. Lo vedremo, lo vediamo subito da questa slide. Allora, il risultato, siamo al secondo posto e quindi possiamo dire che continuiamo con le belle notizie. Forse l'avevate visto sui giornali un po' di anni fa, è stata pubblicata una ricerca di Bloomberg che aveva fatto il giro del mondo, c'era un bel titolo nell'Italia il paese più sano al mondo. Poi nel 2020 siamo stati superati dalla Spagna e tuttora insomma la Spagna c'è avanti. Ciò non toglie che godiamo di ottima salute. E questo penso faccia piacere a tutti. Ecco, e con questo ahimè le belle notizie sono terminate. Qui cominciamo con le notizie un pochino più preoccupanti. Allora, se l'aspettativa di vita si allunga sempre di più, l'altro lato della medaglia è che non c'è ricambio generazionale in Italia. Alcuni dati. Allora, la popolazione italiana sta invecchiando rapidamente. In Italia nel 2015 vi erano 38 anziani, 65 anni di età e oltre, per 100 persone di età compresa tra i 20 e 64 anni, quindi l'età dei lavoratori. Tale livello è due volte più elevato che nel 1970, che era solamente al 19%, ma solo la metà di quello stimato nel 2060, che sarà, udite udite, il 74%. Allora, se guardiamo insieme il grafico, possiamo notare chiaramente come dal 1926 al 2016 si è trasformata la struttura della popolazione italiana. Da una forma a piramide, in cui nella parte bassa ci sono i giovani in gran quantità e nella parte alta pochi anziani, si è passata a una forma quasi capovolta, vedete? Questa qua del 2016. Quindi oggi ci sono pochi giovani che devono mantenere tanti anziani in pensione. avete già intuito dove voglio andare a parare, ci arriviamo molto presto, ma prima voglio fornirvi un altro dato speculare a questo. Allora, in base a uno studio effettuato dall'associazione Neodemos del giugno 2021, che ha simulato l'evoluzione della popolazione italiana, vediamo come nel 2041, la parte di anziani e vecchi sarà sempre di più, sempre più ampia, a discapito di quella giovanile. Non solo, ma anticipando un argomento che tratteremo a breve, si può notare in rosso, in questo grafico, la parte di popolazione attiva, cioè coloro che lavorano, e sarà sempre più minoritaria a tutto il resto della popolazione. E infatti adesso parliamo di giovani e lavoro. Dati euro stata alla mano, il tasso di occupazione giovanile in Italia è del 42,10%. Ecco, pur senza fare allarmismo, questi dati sono impressionanti. Quindi con meno della metà, quindi 42,10% dei giovani occupati su 100 residenti tra i 20 e 29 anni, il nostro paese è ultimo tra i principali paesi europei, superati anche dalla Grecia quota 43,80%. All'autoposto della classifica, paesi dove invece più della metà dei giovani hanno un lavoro, esempio Olanda, quota 78, vedete, seguiti da Germania, Norvegia e Svezia. Ora, per il funzionamento del sistema previdenziale pubblico, questi sono coloro che oggi e domani dovrebbero pagare le pensioni dei nostri anziani. In modo molto schietto, se i giovani non lavorano, i conti non tornano. E ricordiamo che il tasso di disoccupazione in Italia è destinato a crescere anche per alcuni fattori che ormai sentiamo arrivare sempre più forti. Faccio riferimento a tutte queste nuove tecnologie che creeranno sicuramente un po' un terremoto nel mondo del lavoro. Faccio riferimento naturalmente e principalmente all'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è, quanto possono reggere i bilanci dello Stato? Oggi l'Italia spende il 28% del suo prodotto interno all'ordine in protezione sociale pubblica. È la quinta quota più alta fa i paesi dell'Ocse, dove la media vedete circa il 27% del PIB. Allora, ricordiamo un po' protezione sociale, cosa vuol dire? Vuol protezioni, che è il nostro tema, sussidi per la disoccupazione, emergenza alloggi ed altro ancora. Ora, ma di questo 28% del PIL di protezione sociale, quanto poi è dedicato alla Previdenza, al tema che a noi interessa? Lo vediamo in questa slide. La risposta è la parte più ampia. Infatti la parte più ampia va proprio per le pensioni. Guardate la barra di color azzurro. In Italia le sole pensioni rappresentano il 16% del PIB, la quota più alta fa i paesi dell'Unione Europea. E l'invecchiamento della popolazione, già analizzato nelle slide precedenti, potrebbe provocare una situazione ancora peggiore, la cui prima derivata potrebbe essere una pressione fiscale al rialzo. Bene, ma il prodotto interno lordo come sta andando? Domanda retorica, no? A parte un gran bel rimbalzo che abbiamo avuto dopo la pandemia nel 2021, ma era una questione veramente a sé molto particolare, molto particolare. Ora, insomma, il nostro PIL si attesta veramente a numeri molto, molto bassi. Zero virgola qualcosa, oppure uno, scarso uno. Ecco, questo grafico descrive l'aumento della pressione fiscale, che è la linea rossa a scala di destra, dal 2000 al 2020. Pensate si possa alzare ancora le tasse per mantenere il livello di servizio? Oppure è più probabile un ridimensionamento dei servizi, il cosiddetto welfare, tra cui quello più oneroso è appunto quello della previdenza obbligatoria, per l'Inps, per intenderci. Allora, tutti questi dati che abbiamo visto finora, se analizzati insieme e attentamente, portano a riflettere sul fatto che la previdenza è un tema a cui bisogna pensare immediatamente, e tra l'altro non solo la propria previdenza, ma anche quella dei nostri figli. Allora, lo scenario analizzato è che inevitabilmente la pensione pubblica sarà in grado nel tempo di offrirci, quando andremo appunto in pensione, solo una parte del nostro reddito, ok? che possiamo mettere, che possiamo tenere mentre lavoriamo. Quindi, il fatto di integrare la pensione pubblica non è più una scelta lungimirante, semmai sta diventando un dovere e una responsabilità. Infatti, i cambiamenti in atto già da tempo non consentono di passare al futuro come qualcosa di lontano. Bisogna veramente pensarci. Ora, attenzione, non significa che domani il sistema previdenziale pubblico, oppure quello sanitario, saranno completamente privatizzati. Il punto è che già ora di ragionare ad un sistema di protezione aggiuntive e complementari, sia dal punto di vista previdenziale, ma anche da quello sanitario. Perché siamo certi che il futuro della previdenza sarà misto, un po' pubblico e un po' privato. Quindi, muoversi per tempo significa saper stimare oggi il gap da colmare tra l'ultimo stipendio, se siamo dei dipendenti, o reddito, se siamo partite IVA e la prima pensione pubblica che otterremo. Per mettere in campo quelle azioni che ci permetteranno di mantenere il nostro stile di vita anche una volta andati in pensione. E magari ragionare su quali obiettivi si vogliono raggiungere durante gli anni della pensione, per esempio aiutare a supportare i figli in qualche impegno importante, oppure anche solo pensare a quando resteremo soli. Allora, facendo un breve riassunto dei dati fin qui analizzati, possiamo dire che vivremo sempre di più, ma attenzione non vuol dire che vivremo sempre meno. Viviamo tutt'ora in un contesto sano, in termini di qualità del cibo, dell'area di assistenza sanitaria, abbiamo visto però che gli anziani stanno prendendo il sopravvento dal punto di vista numerico. Il numero degli occupati che dovranno sostenere pensioni è in diminuzione, la spesa pubblica per la protezione sociale non potrà essere ulteriormente finanziata con tasse, dal momento che non abbiamo un prodotto interno nord così brillante. E quindi, come facciamo ad avere una pensione che ci garantisca uno stesso tenore di vita futuro anche quando saremo anziani? La risposta a tutto ciò è la previdenza complementare, cioè quella previdenza che si affranca al cosiddetto primo pilastro che è appunto la previdenza pubblica erogata principalmente dall'Inps. E quindi parliamo di fondi pensione, lo strumento più adeguato ad affiancare la pensione pubblica. A riguardo, in Fineco, abbiamo ideato una soluzione denominata Core Pension, che racchiude tutti i benefici tipici dei fondi pensione. Allora, vediamo insieme alcune caratteristiche principali di Core Pension. Per andare a investire in Core Pension sono a disposizione cinque linee, tutte che tra l'altro investono in fondi rigorosamente ISG. Cosa vuol dire ISG? Cioè fondi che selezionano titoli di aziende che aderiscono a politiche di sostenibilità in campo ambientale, sociale e di governance. Queste linee possono essere attivate anche contemporaneamente fino a un massimo di 4, dalla più conservativa denominata garantita a quella più dinamica con una componente azionaria che può arrivare fino al 90% dell'investimento. Quest'ultima ideale soprattutto per i giovani che hanno di fronte un orizzonte temporale lunghissimo. E facendo un esempio a me molto caro, proprio per mia figlia, ho già aperto da tempo un fondo pensione azionario plus 90%. Ora vi faccio un'altra domanda. Quindi apro di nuovo il sondaggio e la domanda è secondo voi quale linea di Core Pension o in ogni caso di fondo pensione deve scegliere oggi un giovane di vent'anni? Una linea garantita, cioè estremamente a basso rischio, una linea bilanciata, cioè che appunto abbia un 50% di obbligazione azionario e 50% di azionario, o una linea tendenzialmente con la componente azionaria più elevata. Allora vedo che state rispondendo e a differenza della domanda che vi ho fatto prima in cui vi eravate distribuiti tra le varie risposte, stavolta sono contento che siete concentrati sulla risposta giusta. Ancora qualche secondo e chiudiamo il sondaggio. Ok, adesso possiamo chiudere. Perfetto. Chiudiamo. Allora, la risposta, la risposta giusta, naturalmente data la propensione dei mercati azionari a performare meglio nel lungo periodo, va da sé che un ragazzo di vent'anni, avendo di fronte un periodo di circa 40 anni di orizzonte temporale, è doveroso consigliare un investimento su un fondo pensione a prevalenza azionaria. Poi il meccanismo corretto finanziario qual è? Allora, avvicinandosi pian piano alla data del pensionamento, sarà conveniente ribilanciare l'investimento aumentando la parte meno rischiosa, e cioè quell'obbligazionaria, per trasformare e consolidare infine tutto il montante che si è creato negli anni in una linea appunto garantita, e questo naturalmente all'approssimarsi della data del pensionamento, quindi circa un anno e mezzo, un anno dal pensionamento. Questo si chiama life cycle del investimento previdenziale. Ora, analizziamo altri vantaggi del fondo pensione. Parliamo un po' di vantaggi fiscali dei fondi pensione, so che è un argomento caro a molti. Allora, vediamo quali sono un po' nel dettaglio. Iniziamo col primo. Le somme che durante un anno vengono versate nel fondo pensione, fino ad un ammontare di 5.164 euro, si possono portare in deduzione. Cosa vuol dire portare in deduzione? Vuol dire abbassare l'ammontare dell'imponibile IRPEF e quindi si pagano meno tasse in base alla propria aliquota. Dopo vedremo un esempio esplicito che ci fa un po' toccare con mano questa agevolazione fiscale. Passiamo ad un altro vantaggio. Allora, a differenza degli investimenti classici, che un risparmiatore può fare quindi in azioni, obbligazioni, fondi, SICAV, eccetera, la tassazione sui rendimenti di questi strumenti finanziari è diversa, cioè nel fondo pensione è più bassa, cioè è al 20% e non al 26%, rimanendo salva tra l'altro la minor tassazione per i rendimenti sui titoli di Stato, i cosiddetti rendimenti, diciamo i titoli nella white list, che rimane al 12,5%. Passiamo ad un altro vantaggio fiscale. Allora, al momento di richiedere il capitale o la rendita al fondo pensione, quindi tra moltissimi anni, quando andrò in pensione obbligatoria, andrò anche nel mio fondo pensione e potrò chiedere la prestazione pensionistica, sugli importi, solo sugli importi di cui abbiamo avuto durante gli anni un'agevolazione fiscale, cioè importi che abbiamo dedotto, su quegli importi dovremo restituire qualcosa all'Agenzia delle Entrate, però dovremo restituirlo con un'aliquota diversa, con un'aliquota agevolata, che partirà dal 15% massimo fino a scendere al 9%. Questa discesa si basa sugli anni di permanenza nel fondo pensione. Anche qui vedremo poi a breve un esempio che ci chiarirà un po' il meccanismo. Andiamo a vedere l'ultimo vantaggio fiscale. I fondi pensione, a differenza degli altri investimenti, quelli che citavo prima, azioni, biglazioni, fondi, SICA e via dicendo, non paga l'imposta di bollo annua, spesso soprannominata la minima patrimoniale, che ad oggi è lo 0,2% del controvalore degli investimenti. Ma veniamo all'esempio di cui vi parlavo prima, che ci aiuta a capire meglio il meccanismo di agevolazione fiscale delle deduzioni. Questa tabella è molto utile, tra l'altro appena aggiornata proprio perché ve lo dico per chi non lo sa, a partire dal 1 gennaio sono cambiate sia le fasce di reddito imponibile e le relative aliquote IRPEF. Da 4 sono diminuite a 3. Quindi, dicevamo, questa tabella ci riassume le fasce di reddito e le relative aliquote che vengono applicate e ci aiuta a capire il vantaggio della deduzione fiscale. Prendiamo l'esempio, quello nel riquadro verde, di un lavoratore che ha un reddito oltre 50.000 euro. Se durante l'anno versa sul proprio fondo pensione, quindi non è che spende dei soldi, ma decide di, parte da propria liquidità, metterla in un investimento proprio per la sua pensione futura, oltre a fare del bene per pensare al suo futuro, nel brevissimo avrà anche un ulteriore vantaggio. Quindi, mettendo per esempio il massimo 5.164 euro, avrà un vantaggio subito immediato del 43% e cioè dovrà pagare meno tasse pari a 2.221 euro. Qui nell'esempio che vi riporto nella slide ho proiettato anche, per esempio, nei 35 anni, se fa questa attività per 35 anni, vedete che avrà un risparmio di tasse di più di 77.000 euro. Questo vantaggio, nel momento in cui chiederà la prestazione pensionistica, e quindi presumibilmente tra molti anni, una parte di questo vantaggio dovrà essere parzialmente restituito, ma con un'aliquota molto più bassa. Andiamo a vedere quanto. Con questa tabella possiamo comprendere meglio quanto di tutte le agevolazioni fiscali godute negli anni, attraverso i versamenti nel fondo pensione, dovremo restituire al fisco nel momento in cui andremo a chiedere la prestazione pensionistica al fondo. Riprendendo l'esempio di prima, quando il nostro lavoratore chiederà la prestazione pensionistica, solo su quelle somme che ha dedotto, andrà a pagare un'aliquota del 15% fino a scendere al 9% in base all'anzianità che ha nel fondo pensione. Vedete, all'aumentare degli anni di anzianità, barra arancione, diminuisce l'aliquota fiscale di 1,03% ogni anno. E quindi, riprendendole ad esempio di prima, vi ricordate di quei 2.221 euro che ogni anno il nostro lavoratore avrà di vantaggio, ecco, di quei 2.000 dovrò pagare dopo, quando chiederò la prestazione pensionistica, al massimo 774 euro, se dovrò restituire il 15%, fino a scendere a solo i 464 euro, se avrò raggiunto un'anzianità di 35 anni, quindi pagherò solo il 9%, ok? Vedete che la differenza è notevole. Oggi guadagno 2.221 e magari tra 35 anni darò solo 464 euro. Ecco, proprio per questo un meccanismo agevolato legato all'anzianità, possiamo dire, e qui mi lancio proprio un'idea ai nonni e agli zii, che il regalo più intelligente da poter fare ad un figlio anche appena nato o anche a un nipotino è proprio l'apertura di un fondo pensione, proprio fin dalla nascita. Bene, tra l'altro, oltre a regalare l'anzianità previdenziale, come vi dicevo prima, colui che ha un soggetto fiscalmente a carico, per esempio il papà nei confronti del figlio appena nato, può versare sul loro fondo pensione e dedurre anche quegli importi. Quindi pensate al neonato, a cui viene aperto un fondo pensione oggi, oltre al fatto che il papà può dedurre questi versamenti, il neonato tra 35 anni potrebbe ottenere sulle somme dedotte, in alcuni casi, la tassazione più bassa del 9%. Ok, passiamo ora ad un argomento di sicuro interesse, il costo dei fondi pensione. Allora, vediamo ora quanto costano i fondi pensione aperti e come si posiziona CorePension rispetto a questo mercato. Nel grafico abbiamo evidenziato con una linetta blu il costo medio di tutti i fondi pensione aperti per singolo comparto. Poi abbiamo inserito con il pallino arancione, lo vedete, il costo di CorePension. Ecco, questo risulta inferiore alla media dei fondi aperti presenti in ogni singolo comparto, raggiungendo addirittura un posizionamento del meno 25%, vedete questo qua, sul comparto azionario 75%, vedete, il gap tra la media e il costo del nostro CorePension è quello più elevato. I vantaggi di CorePension però non si esauriscono solo in termini di pricing, cioè di costo, ma passando ora alla parte operativa, vediamo come si può facilmente aderire a un CorePension stando comodamente a casa propria e senza utilizzo di carta. Quindi per farlo adesso ci spostiamo sul sito, per chi è già cliente sicuramente conoscerete il nostro sito di Fineco, da cui andremo a partire. Eccolo qua. Allora, vi faccio un accesso con delle password di sistema, vedete, qui sono in una posizione fettizia e per aprire, per chi è già cliente del conto corrente, un CorePension, un fondo pensione, è necessario cliccare su consulenza e investimenti, dopodiché vedete nella barra a sinistra c'è previdenza e andare su fondi pensione. Qui adesso entriamo in un'area dedicata proprio al CorePension, tra cui tra l'altro vi invito a leggere queste pagine di introduzione perché aiutano e vanno a integrare un po' le informazioni che vi ho raccontato fino adesso. Molto importante tra l'altro proprio per capire bene la situazione questa tabella che vedete in sovrimprensione. qui c'è stata una simulazione per cui abbiamo messo la barra azzurra e l'ultimo stipendio. Cosa succede a un lavoratore dipendente che inizia a lavorare nel nostro esempio, un lavoratore dipendente con 38 anni di contributi nel 2070, vediamo che il dipendente avrà un tasso di sostituzione poco superiore al 50%, quindi perderà quasi il 41,5% del proprio stipendio quando andrà in pensione. pensione, ancora peggio la situazione del pensionato autonomo, cioè un autonomo che andrà in pensione nel 2070 con 38 anni di contributo avrà addirittura un tasso di sostituzione sotto il 50%, quindi perderà il 58,8% del proprio stipendio. E' impressionante, veramente impressionante questo dato, se ci si ferma un attimo a ragionare diventa veramente automatico dire che è importante aprire subito un fondo pensione. Scendiamo e a un certo punto vediamo che c'è la possibilità di aderire ora. Vi esorto in realtà a soffermarsi anche su questo link che è consulta le facche per approfondire tutti i dettagli del servizio, perché in questo link sono previste tantissime situazioni, tantissime risposte magari ad alcune domande che vi vengono in mente sui fondi pensione. Come si fa aderire al Corpension? Vi assicuro che penso che in meno di un minuto ce la faremo. Si clicca aderisco ora, io scusate qui c'è la scelta del comparto su cui si vuole andare, facciamo per esempio l'obbligazionario, quindi aderisci ora, conferma. è necessario decidere quanto fare come versamento iniziare, qui potete mettere 100 euro, e quanto è il versamento totale anno, facciamo un esempio di 500 euro. Dopodiché il sistema vi chiederà quale sarà la periodicità con cui il sistema andrà a prelevare questi 500 euro. Se io metto mensile, naturalmente vuol dire che questi 500 euro all'anno andranno divisi per 12. E qui ci sarà la possibilità di iniziare a attivare il Corpension. Vedete che in questo momento la prima attivazione è marzo 2024. molto bene, facciamo continua. Qui banalmente indicheremo la nostra professione, il settore di appartenenza, anche per esempio titolo di studio, laurea, e luogo, attività economica prevalente, per esempio di Milano. Qui ci sono altri campi non obbligatori, se uno vuole alimentare il Corpension con il proprio TFR dovrà cliccare qui, se si è attualmente titolare di un altro fondo pensione bisognerà segnalarlo, eventualmente bisogna segnalarlo se si vuole trasferire. Ma proviamo a fare un'adesione proprio normale in cui siamo noi che andiamo a alimentare il Corpension con i nostri soldi. Pertanto bisogna fare conferma. Vedete che siamo già a una pagina finale in cui andremo a flegare le varie prese e visioni, come qua, e siamo già alla fine. Dopodiché qui inseriremo il nostro PIN dispositivo, faremo conferma, ci sarà bisogno attraverso l'OTP di andare a inserire un altro codice che vi sarà arrivato sul telefono e l'adesione sarà già operativa. Vedete come veramente in pochissimi clic si è deciso di aprire un fondo pensione, la linea che uno preferisce, le modalità di versamento e quindi finalmente si ha una propria previdenza complementare. Bene, torniamo alle nostre slide e quindi volevo ricapitolare un po' brevemente quello che ci siamo raccontati in questi minuti. Allora, abbiamo visto le caratteristiche del Corpension, 5 linee, ognuno per ogni esigenza e orizzonte temporale, tra l'altro anche sottoscrivibili contemporaneamente fino a 4. Abbiamo visto i vantaggi fiscali, abbiamo visto le deduzioni, vedete ogni anno mettendo dei soldi per il proprio futuro in automatico si risparmiano soldi dal punto di vista fiscale. Poi abbiamo visto che gli investimenti nel fondo pensione sono esenti dal bollo e tra l'altro hanno anche una tassazione minore sui rendimenti. Poi cosa abbiamo visto insieme? Il pricing. Corpension mediamente è inferiore al pricing della sua categoria per ogni singolo comparto e poi abbiamo visto il sito dove andare a sottoscrivere Corpension e trovare anche ulteriori informazioni. Tra l'altro vi ricordo che Fineco è la prima banca che permette l'adesione a un fondo pensione totalmente online senza l'utilizzo di carta e senza doversi recare o in un'agenzia o presso una filiale bancaria. Bene, ora direi che possiamo passare alle vostre domande, visto che nella chat ne sono comparse un po'. Allora, sono tante. vedo di riassumere un po' i concetti che mi avete segnalato. Allora, beh, innanzitutto, l'adesione per un figlio a carico in questo momento non è possibile farla via web, è necessario recarsi presso uno dei nostri Fineco Center e con l'ausilio di un consulente ci sarà la possibilità di far aderire al Corpension un minore. Dopodiché, allora, rispetto subito all'ultima che è arrivata, è possibile avere slide, in realtà voi potrete rivedere questo intervento sul sito di Fineco, nell'area pubblica, nella parte di formazione e quindi nella parte video library. Andrete a cercare investing e vedrete che ci sono le registrazioni, tra cui l'ultima andranno per data e vedrete che questa è, se andrete domani, la troverete. Ora, vedo di fare un po' una sintesi di tutte le domande che sono tante. Allora, la deducibilità dei 5.164 euro è cumulabile con la detrazione di altri versamenti assicurativi? La risposta è sì, perché detrazioni e deduzioni sono due modalità differenti per riconoscere delle agevolazioni fiscali. I 5.164 euro sono deducibili per ogni persona fisica? Ovvero, se apro due fondi per le figlie, posso portare in deduzione 5.164 euro per due? La risposta è no, nel senso che i 5.164 euro non sono cumulabili e si riferiscono solo al soggetto che porta in deduzione. Quindi facendo un esempio, io papà, magari ho già un fondo pensione su cui verso 1.000 euro, poi apro due fondi pensione a due mie figli a carico, una di 2.000 e l'altra di 2.000. Bene, quanto porterò in deduzione in totale? 1.000 mie, 2.000 e altre 2.000 in totale 5.000, sono sotto la soglia. Giusto per essere chiari, facciamo un altro esempio. Se io papà ho già un mio fondo pensione in cui verso i 5.164 euro, poi apro un fondo pensione a mia figlia Maria e l'altra figlia Laura e verso a Maria altre 2.000 e a Laura altre 2.000, quanto porterò in deduzione? al massimo 5.164 euro. Non potrò accumulare anche i 2.000, 2.000, gli altri 4.000 dati alle figlie. Poi, posso saltare il versamento un anno? Sono obbligato per ogni anno? Allora, il versamento è libero, pertanto il cliente decide liberamente quando e cosa versare senza alcun tipo di conseguenza. Devo obbligatoriamente fare versamenti mensili o quando ho la disponibilità? Si può impostare un versamento ricorrente con periodicità mensile, l'abbiamo visto prima, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o addirittura annuale, oppure versare con un apposito modulo di versamento ogni qualvolta se ne abbia la possibilità. Se si ha un conto in fine ecco contestato, è possibile assegnare il fondo pensione a una sola persona? Allora, qui è una domanda tecnica ma molto semplice, nel senso che c'è il conto fine ecco contestato, però attenzione, quando entrate sulla piattaforma voi entrate con le vostre credenziali personali, quindi se c'è il conto in fine ecco contestato A e B entra A, la possibilità di aprire un fondo pensione sarà solamente per A, perché c'è un legame diretto con chi sta entrando nella piattaforma. Posso versare online solo il TFR? La risposta è sì, basta non inserire nulla nella sezione dei versamenti che abbiamo visto prima e seguire le indicazioni e la procedura per versare il TFR. Io non ve l'ho fatta vedere per questioni di velocità, ma nella prima videata c'era versamento attraverso TFR, cliccando lì si apre una paginetta di spiegazioni e seguendo quelle spiegazioni si alimenterà il fondo pensione attraverso il proprio TFR. Allora, bella domanda, arrivate al giorno della pensione, eccola qua, appena arrivata, diciamo che arrivate al giorno della pensione, come vengono restituiti i soldi investiti? Allora, tenete presente che non è obbligatorio riscattare il fondo pensione, o meglio più tecnicamente chiedere la prestazione pensionistica al fondo pensione. Se la si chiede è necessario appunto fare una domanda al fondo pensione e scegliere poi le modalità con cui avere la prestazione, per esempio tutto in rendita, ok? E poi si andrà a scegliere la tipologia di rendita, oppure si può scegliere di avere fino a 50% in capitale, come se fosse un TFR, e il restante in rendita. Ma se uno non ha bisogno di avere quel capitale o non ha bisogno di una rendita, volendo può continuare a tenere in vita il proprio fondo pensione, non solo tenerlo in vita, ma anche alimentarlo, e non solo alimentarlo, ma continuare a dedurre anche eventualmente i redditi da pensione, IPS, quindi diventa uno strumento, passatemi un po' il termine, di ottimizzazione fiscale, no? Io non ho bisogno di quel soldi del fondo pensione, continuo a versare e continuo a dedurre. Addirittura potrebbe essere utilizzato come uno strumento di passaggio generazionale, quindi i fondi che ci sono, il montante che c'è nel fondo pensione, posso decidere di non prenderlo mai e una volta che passerò a miglior vita, quei soldi andranno ai miei eredi udite udite senza pagare alcuna tassa di successione. Questo è un bel vantaggio che vi evidenzio proprio per chi non ha voglia di dover pagare le tasse di successione. Attualmente vi posso dire che ci sono delle franchigie molto alte, per i figli è un milione a figlio, però la normativa oggi è particolarmente di favore sulle tasse di successione. Un domani, che tra l'altro l'Unione Europea ci sta chiedendo a gran voce, se cambiano queste franchigie e cambieranno soprattutto le aliquote da applicare ai beni che andranno in successione, avere questo, passatemi, soluzione free è veramente molto interessante. Altra domanda, sfatiamo un mito qua, è vero che i soldi in un fondo pensione sono bloccati? La risposta è assolutamente no, anzi in base all'anzianità in cui uno è nel fondo ci sono varie opportunità per prelevare gli importi. Allora nel dettaglio, da subito è già possibile chiedere delle anticipazioni, tecnicamente si chiamano anticipazioni, per spese sanitarie fino ad aumentare del 75% del montante. Poi, se passano 8 anni è possibile chiedere altri tipi di anticipazioni, per esempio il 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa mia e dei miei figli. E infine, passati 8 anni sempre, addirittura è possibile chiedere il 30% del montante per qualsiasi necessità, non dovendo produrre alcuna giustificazione. Quindi è veramente da sfatare il mito che se metto i soldi in un fondo pensione, ahimè, sono bloccati. Vi aggiungo una cosa più molto importante, che è una normativa abbastanza recente, che permette addirittura di riscattare il controvalore del fondo pensione se si perde il proprio posto di lavoro. Quindi, perdo il posto di lavoro, ahimè non ho di che mangiare, intanto avevo accumulato qualcosa nel fondo pensione, attraverso il riscatto immediato della posizione al 100%, io posso chiedere al mio fondo pensione di ridarmi tutti i soldi accumulati. Allora, vediamo altre domande, sono tante. Ecco, interessante i costi. Ci scrive un nostro partecipante, eh ci sono commissioni di ingresso? La risposta è no, non ci sono in corpension commissioni di ingresso, non solo, ma non ci sono neanche dei costi legati a ogni, diciamo, eh versamento su corpension, cosa che invece hanno altri eh fondi pensioni della concorrenza. L'unico costo legato al fondo pensione corpension è quello che vi raccontavo prima, la cosiddetta commissione di gestione che, come avevate visto prima nelle slide, mediamente noi siamo sotto a tutti i prodotti della concorrenza. Eh, altra domanda interessante, se Fineco falisce cosa succede al mio fondo pensione? Attenzione, non c'è nessun pericolo, il fondo pensione è salvo, essendo un investimento segue le sorti delle aziende o delle nazioni per i titoli in cui si investe e non quello della, non quello, non segue la sorte della banca che ha collocato il fondo pensione. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda eh interessante il nostro partecipante fa una domanda, una persona in pensione può aprire un fondo pensione? Oppure una persona di sessantadue anni può accedere a un fondo pensione per eventuali motivi, fiscale o di altro genere? Allora, seguitemi un attimo in questo tipo di risposta. Una persona in pensione, se è di vecchiaia, non può più aprire un fondo pensione, tranne un caso che abbia aperto già da da prima da un fondo pensione e voglia trasferire quel fondo pensione in corpension, ok? Esempio, ho settant'anni, sono in pensione IMS, però contestualmente ho mantenuto aperto un fondo pensione di un'altra azienda. Posso aprire il corpension? La risposta è sì, se contestualmente dichiaro di trasferire il fondo pensione già in essere in corpension. Poi c'è una domanda esplicita, una persona di sessantadue anni può accedere, accendere un fondo pensione? La risposta è sì, se la sua categoria ha una limite di pensione di vecchiaia di sessantasette anni, perché la regola qual è? Un anno prima della età prevista per la pensione di vecchiaia. Diciamo che mediamente la pensione di vecchiaia adesso è sessantasette anni, pertanto fino a sessantasei anni è possibile aprire un fondo pensione. Tra l'altro è possibile aprire un fondo pensione anche se quel soggetto è in pensione anticipata, cioè lui ha avuto la possibilità di andare in pensione anticipata, quindi non so, ha goduto della quota cento, cento uno, cento due, cento tre, quello che volete, a sessantadue anni per esempio in pensione, può aprire un fondo pensione? Sì, perché in ogni caso la sua pensione di vecchiaia, il suo limite è sessantasette anni, quindi fin tanto che non arriva a sessantasei anni può aprire un fondo pensione. Per quale motivo? Lo dice il nostro partecipante stesso, per motivi fiscali oppure come raccontavo io, per il passaggio generazionale, quindi mettere un montante importante che poi andrà a finire ai figli finanziamenti senza il pagamento delle tasse di successione. Ok, allora ancora qualche domanda finale? Vedo che c'è un nostro partecipante già abbastanza esperto perché fa una domanda molto particolare. Il fondo pensione può essere riscattato in forma capitale se l'importo mensile dell'assegno inferiore a quello sociale? La risposta è sì. Traduciamo un attimo in modo molto semplice. C'è un meccanismo tale per cui io prima vi ho raccontato che una volta che vado in pensione IMS posso andare a chiedere la mia prestazione pensionistica al core pension e in quel caso potrò decidere o avere tutta una rendita, quindi un qualcosa che andrà a sommarsi alla mia rendita IMS, alla mia pensione IMS, oppure posso chiedere fino a 50% del capitale. Tutto ciò è vero con un'eccezione. Se il montante che ho creato è di un meccanismo abbastanza complesso, non ve lo dico, vi posso dire che si aggira intorno ai 90.000 euro, posso addirittura dire al fondo pensione dammi tutti i 90.000 euro, quindi non chiedere neanche la parte in rendita. Ringraziamo il nostro partecipante che ci ha fatto una domanda molto molto specifica sul tema. Altre domande, vediamo un po'. Si possono aprire più fondi pensione contemporaneamente? Ad esempio un fondo aziendale in aggiunta al core pension? Allora, la risposta è assolutamente sì. Un lavoratore dipendente, voi sapete che i lavoratori dipendenti hanno una grande fortuna di poter avere attraverso le proprie aziende la cosiddetta diciamo previdenza complementare collettiva e quindi avere la possibilità di aderire a un fondo pensione si dice anche negoziale e non solo quando aderisce, molto spesso in base agli accordi aziendali c'è la possibilità che l'azienda versi una sorta di premio, fa un versamento aziendale in più, un bonus chiamiamolo. Il dipendente può avere questo fondo e però decidere che magari è un fondo che si va bene perché c'è il contributo aziendale, però magari non è un fondo performante, però magari ha delle linee che hanno un'esposizione, faccio un esempio azionaria magari fino al massimo 60% e questo cliente, in questo nostro esempio l'età dell'aderente è 30 anni, ho un orizzonte temporale di altri 30 anni e tutto sommato vado a investire in una quota azionaria molto bassa e allora posso aprire di fianco un altro fondo pensione, per esempio prendere il core pension con l'azionario plus 90%, ok? Altra domanda, altra domanda? Assolutamente sì, dove già la risposta, il fondo pensione può essere aperto anche da un non lavoratore, esempio da una casalinga, assolutamente sì. Chiunque può aprire un fondo pensione aperto come core pension, a partire dal neonato che non ha mai lavorato, fino ad arrivare, come vi dicevo, addirittura a chi è già in pensione o chi sta andando in pensione stando attenti ai limiti di età. Le somme pensionistiche erogate sono assoggettate all'IRPEF? Assolutamente no, questa è la risposta, non fa reddito IRPEF nel modo più assoluto. Mentre la pensione IMS fa reddito IRPEF, la rendita o il montante proveniente dal fondo pensione non fa assolutamente cumulo IRPEF. Bene, io direi che con questa domanda siamo arrivati alla fine, concludo con questa osservazione. Oggi ho voluto introdurvi alcuni spunti che sono sicuro vi hanno mosso qualcosa. Mi piacerebbe essere riuscito anche a farvi rientrare tutti in quel famoso terzo gruppo che accennavo all'inizio, cioè quello composto da persone consapevoli dei fenomeni in atto a livello sia mondiale ma soprattutto nazionale, poiché questi fenomeni stanno già portando dei cambiamenti epocali e rivoluzioneranno in modo importante la previdenza pubblica. Allora a questo punto il prossimo passo è aprire un fondo pensione, minimo per voi se non anche per i vostri figli o addirittura i nipoti. Vi ho presentato CorePension con le sue soluzioni e addirittura le modalità semplici per poterlo aprire, seduti comodamente da casa senza carta e tutto in digitale. Allora prima di salutarvi vi ricordo che chiudendo il webinar vi comparirà un breve sondaggio al cui vi chiedo cortesemente di rispondere e attenzione alla fine cliccare Submit per inviarlo, sono veramente pochi i secondi. E quindi vi auguro a questo punto una buona serata e alla prossima.